Ah, la belle époque di Parigi. Eh sì, la rinascita della città illuminata e Picasso, arrivato nella capitale francese poco meno che ventenne, ne rimane affascinato, anzi inebriato. A Parigi si viveva per le strade, si cantava gli incroci, ci si baciava nelle panchine ai tavolini dei caffè all'aperto e tutto era colore e rumore. Pablo frequenta in particolare Bordelli e Cabaret, dove non si sente mai solo, insieme agli artisti della comunità catalana, presenti a Parigi in quel periodo e con lui sempre il suo grande amico Casagemas. Conquistano le donne e si lasciano affascinare da nuove visioni artistiche. Picasso, in questo primo soggiorno parigino, sceglie di rendere omaggio alla vivacità del cabaret, con l'opera Les Moulins de la Galette. Sulla tela Pablo riproduce una vivace scena notturna, probabilmente vissuta all'interno dell'omonimo locale di Montmartre, Moulins de la Galette. Lo spazio è affollato di uomini e donne che ballano sotto una girandola di luci che sembrano fluttuare. Quella era la vita che il giovane Pablo aveva sempre sognato e ora ne assaporava ogni istante da protagonista.